La birra terra di lavoro, che mi puoi dire a questi giovani che non abbandonano la propria terra e non vanno al nord? Quando vedo le etichette, perché io guardo sempre le etichette, e vedo che è un prodotto nostro, della nostra terra, del nostro regno, io ne vado così orgoglioso, così orgoglioso che non so descriverlo, non so descriverlo perché amo gente come Roberto, che porta avanti nella propria terra. Sono giovani che non vanno via. Sono giovani, sì, coraggiosi, che ci credono e fanno bene. Grazie Aldo, grazie a te Enrico, e come vedi i vostri generosi premi non vanno mai in cattive mani. Grazie di tutto Aldo per tutto quello che fai e speriamo di fare sempre cose ancora più belle. Grazie Enrico. Grazie a voi.